Siamo qui che stiamo scioperando per queste nuove leggi europee che andiamo sempre peggio, ogni anno ne esce sempre una, fanno sempre queste leggi senza mai chiamarci oppure non ci interpella mai nessuno e quando hanno fatto già queste leggi è già sempre troppo tardi, però è tutto un regresso qua, non andiamo mai più avanti con queste leggi per le taglie dei pesci più piccoli, ci sono sanzioni che ormai partono dai 4.000, 5.000, si parla anche di 15.000, 45.000, sono sanzioni che non esistono, per poi questi mari qua, loro adottano queste leggi e i mari nordici che noi nel nostro piccolo Mediterraneo non possiamo sostenere. Queste leggi come influiscono sul vostro lavoro, sulla vita di tutti i giorni, cosa vi cambia nel vostro modo di lavorare? Ci cambia che arriveremo a chiudere perché non è possibile, guardando i pescati, guardando le sanzioni che ci impongono, siamo costretti a chiudere, se a una persona gli capita un verbale di 10-15.000 euro e quando lo andiamo a pagare? Ormai i pescati sono quelli che sono, ne sono tutti a conoscenza, anche le nostre istituzioni ormai ne sono a conoscenza dei nostri pescati, li guardano i nostri pescati, quindi come fanno a mettere delle sanzioni simili e le entrate sono inferiori, cioè buttateci a fondo e facciamo prima. Oggi manifestazione a Sanremo, avete in mente altre iniziative poi nelle prossime settimane? Oggi manifestazione a Sanremo con i nostri colleghi che sono a Roma e continuiamo con questa linea sperando di ottenere qualcosa. Io sono diventato comandante della mia barca il primo dicembre del 2016 di quest'anno, io ho 19 anni, ho finito a Nautico a giugno e dopo soli dieci giorni la capitaneria di Porta a me 10-12 di dicembre mi ha fatto un verbale di 2.064 euro per una cavolata, perché al posto di chiamarli all'imbocatura del Porto li ho chiamati quando ero già entrato in Porta e avevo legato gli armigi, non è possibile, non si può andare avanti così, non è più diventato un lavoro, sembra che andiamo a rubare con il nostro mestiere. Ecco, tu sei molto giovane, è appena iniziato, si può dire che queste leggi, queste limitazioni ti facciano un po' passare la voglia di fare questa carriera o sei comunque determinato? Io sono determinato perché ci sono nato, da quando ho 6 anni, 7 anni, che sono piccolino papà mi portava a pescare, allora a noi ci tagliate e non ci esce il sangue dalle vene, ci esce l'acqua salata, ormai questo mestiere ce l'abbiamo nel sangue, però sta veramente diventando un problema andare a lavorare perché ci fanno passare la voglia, ogni 2-3 mesi c'è una legge nuova, non si può più vivere.